Riapre le porte il Salone del Mobile a Roffiera Milano, un appuntamento imprescindibile del settore a livello internazionale. Oltre 80 le aziende lariane che partecipano a questa 57esima edizione. A tagliare il nastro dell'edizione 2018 il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, insieme al Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e alla Presidente del Senato Elisabetta Casellati. Il Presidente Gentiloni ha scommesso sul successo dell'edizione. Non voglio dirlo per scaramanzia, ma credo ci siano tutte le condizioni perché quest'anno il successo sia superiore rispetto agli anni precedenti. Presenti alla conferenza stampa di inaugurazione il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il Presidente di Regione Lombardia Attilia Fontana e il Comasco Alessandro Fermi, Presidente del Consiglio regionale. Ho girato in lungo e in largo il territorio della nostra regione e nelle settimane della campagna elettorale, ha spiegato il Presidente Fontana, e ho riscontrato quanto siano numerose le nostre eccellenze. Un tessuto economico e industriale che ci induce a fare squadra con iniziative come il Salone del Mobile. Il Presidente Fermi è intervenuto all'inaugurazione dell'esposizione dei prodotti realizzati dagli allievi del quarto anno del corso tecnico del legno, un'iniziativa promossa dalla Fondazione Enaip Lombardia di Cantù nell'ambito del progetto Brianza Design Formazione. È un mondo straordinario in cui la nostra economia comasca e lariana offre delle esperienze straordinarie. Pensiamo di essere qui all'interno di un padiglione creato da Enaip, che è una scuola tutta comasca, che è riuscita a mettere insieme altre scuole della Brianza per creare un modello vincente di connubio tra il mondo dell'impresa e il mondo della scuola. Il legno alredo per noi è una parte fondamentale della nostra economia. Il Salone del Mobile rappresenta il momento in cui questa parte straordinaria della nostra economia viene messa in mostra a tutto il mondo.